Marco, qui il lavoro è duro. Io questo Natale vorrei andare a sciare. Io lo so, Bruno, non mai andato in vita mia a sciare una volta. Ma sei capace? Eh, io. Un matto fracico. Però secondo me niente, però purtroppo l'impegno è questo. C'è niente. Ma è andata così, questo Natale è andata così. Sarà il prossimo, dai. Oh, ragazzi. E dai, dai. E dai, dai, dai. E dai, dai, dai. E dai, dai. E dai, dai, dai. E dai, 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 dai. L fillspere G conviction e wisdom. L sitten, da, dai, 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 dai. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti